È stata ripristinata una vecchia usanza, la statua della Madonna rimane qui per otto giorni dal giorno in cui si è svolta la processione e non più nel posto dove l'abbiamo sempre vista. Sì, anche perché diventa una lettura molto bella, se durante il settenario la Madonna era in alto, in tutti i gelesi, tutta la città è venuta a trovarla, ma rientrando dopo la processione abbiamo scelto di lasciarla qui. Non è più la città che viene a trovare, ma è Maria che viene a trovare la città, cioè si mette nello stesso piano, una vicinanza non solo fisica, ma una visibilità di questa vicinanza di Maria spiritualmente presente in noi. Infatti tutte le celebrazioni di questo Tav per ogni giorno stiamo facendo una memoria di Maria, Madre del Buon Consiglio, Madre della Gioia, Madre del Signore, per sottolineare ancora di più la presenza di Maria nella nostra vita. Ma per quale motivo, tornando un attimo indietro, la processione quando non si è fermata in via Manzoni dove era stata anche allestita a una festa vera e propria? A me è arrivata una difida, una difida che davvero vietava il sostare in via Manzoni, come dice proprio la difida. Pertanto, al fine di evitare i rischi e i pericoli per la incolumità fisica dei fedeli in processione, si invita la Codesta Parocchia a transitare per la pubblica via Manzoni e a non esulgere alcuna fermata o sosta all'altezza del numero 100, dove c'erano le palassine che hanno problemi, come la via stretta e abbiamo scelto di fare il sfogliamento all'inizio di via Manzoni e poi passare per via Manzoni e fermarsi solo sul lavatutto, il benzinaio che c'è, solo transitare, non fermarsi. Ma per un motivo molto semplice, c'è questa difida che una settimana prima della palassina numero 100 mi è venuta a portare. La legge viene osservata, non osservata come voglio me, ma osservata secondo i dettami della legge stessa. Per lei è stata l'ultima professione, l'ultima festa della Madonna delle Grazie perché se l'ha trasferito e arriverà il nuovo parroco. E arriverà anche il nuovo viceparroco. Sì, il nuovo viceparroco. Ieri il governo della provincia, il ministro provinciale con il suo consiglio è stato radunato e hanno il letto Fra Luca Bonomo che è stato con noi questa settimana. Lui sarà il nuovo parroco. A fianco a lui prenderà il mio posto come viceparroco, Fra Emanuele Lattale che attualmente lavora anche, fa un servizio al carcere a Gelle. Quindi verranno questi due. Io e Fra Corrado siamo stati trasferiti alla città di Ragusa, a una nostra parrocchia, Sacra Famiglia, che è anche un'altra parrocchia molto grande che sicuramente avrà bisogno di noi. E porterà lei Gela nel cuore a Ragusa? Guarda, io ringrazio. Ringrazio innanzitutto alla comunità parrocchiale, la città, tutte le relazioni a Rocco che mi ha evitato in questa comunità parrocchiale. Tutto ciò che abbiamo fatto assieme come parrocchia, come comunità, io porterò nel cuore la città.